Benvenuto, se non hai ancora visto i primi due video ti invito a farlo subito prima di proseguire con questo. Nel primo video abbiamo visto perché molti uomini che spendono tempo in alcuni dettagli del loro abbigliamento senza una conoscenza necessaria di base buttano via questo tempo in quanto i risultati non potranno portare all'obiettivo e cioè quello di essere ben vestito. Nel secondo video abbiamo visto che la cosa più importante di tutti, a tutti i livelli, è il fit. Abbiamo visto come debba essere il fit ideale di camice, giacca e pantalone in modo che si possano fare acquisti più attenti che potranno già migliorare la vostra immagine. Ci siamo focalizzati sui punti critici da controllare per poter quantomeno avvicinarsi il più possibile al fit ideale. In questo terzo video andremo a vedere invece un'altra cosa importantissima da non ignorare per poter essere un uomo ben vestito e che potrà portare un triplice beneficio. Tre benefici da un'unica lezione concentrata in pochi minuti per cui fate molta attenzione. Il beneficio 1. Essere adeguato alla situazione. Beneficio 2. Più facilità nella scelta dei capi da acquistare. Beneficio 3. Maggior fiducia e sicurezza perché si sarà più sicuro di quello che si indossa. Ciò che vi spiegherò in questo video è complesso, ma come al solito cercherò di darvi la base di conoscenza necessaria per farvi riflettere quantomeno prima di fare un acquisto. L'errore più comune che molti uomini commettono è quello di considerare i capi di abbigliamento a compartimenti stagni. Ecco cosa pensa la maggior parte degli uomini in relazione al grado di formalità dei capi di abbigliamento ed agli outfits che si possono comporre. Abito uguale elegante, giacca più camicia più cravatta, uguale elegante, camicia più cravatta, uguale elegante, camicia più pantaloni, uguale elegante, blue jeans casual. Non c'è nulla di sbagliato in questa classificazione, ma non rispecchia la realtà. Lasciatemi spiegare prima di entrare nel dettaglio. Quante volte vengono utilizzati termini come business casual, informale, casual chic, smart, sportivo elegante, eccetera? In tutte le suddette situazioni, in molti, l'unica cosa che sanno di certo è che non dovranno vestire elegante. Spesso però non sanno la cosa più importante, e cioè cosa indossare. E questo è perché? Ritorniamo alla classificazione di prima. Perché l'abito elegante, giacca più camicia e cravatta elegante, camicia e cravatta elegante, camicia e pantaloni eleganti, blue jeans casual. Quindi, in una situazione che abbiamo visto, come abbiamo visto precedentemente, risultano determinate cose troppo eleganti e i blue jeans al limite troppo casual. D'altronde, però, se ci pensate bene, quali sono gli elementi dell'abbigliamento maschile? Giacca, pantaloni, camicia, cravate, maglie, scarpe e qualche accessorio. Ed allora, cosa diavolo dovrà indossare un uomo in quelle situazioni? Un pigiama? Una gonna? No, di certo, dovrà indossare qualcosa scelto fra i capi maschili a disposizione. Ma dovrà conoscere quali saranno i più adatti. Quindi, molto semplicemente, si comprende che, evidentemente, non tutte le giacche sono uguali, non tutti i pantaloni sono uguali, non tutte le camicie sono uguali e così via. Conoscere che cosa determina la destinazione d'uso di uno stesso capo d'abbigliamento è fondamentale, anche quando i codici d'abbigliamento, il famoso dress code, non sono scritti. E, se non sono scritti, non vuol dire che non esistano. Ognuno di noi vive all'interno di un tacito dress code. Dipende dallo stile di vita, dalla professione, dalle relazioni sociali nella vita di tutti i giorni. Lo rispettiamo senza saperlo. Si adegua il modo di vestire al nostro stile di vita e alle frequentazioni. Se uscite con gli amici, non c'è un dress code scritto, ma utilizzerete lo stesso un dress code. Cioè vi abbiglierete sempre in sintonia con il vostro gruppo. Come uso fare? Se siete tutti blue jeans e sneakers ed uscite con un amico nuovo che si presetta in giacca e cravatta, vi sarà disagio da entrambe le parti? Attenzione! Questa non è una lezione sul dress code tipico degli inviti. Anche semplicitamente li comprende. Ma semplicemente è rapportata alla vita di tutti i giorni e spesso capita di non sapere che cosa indossare anche nella più banale delle situazioni, soprattutto quando è la prima volta e c'è sempre una prima volta. Questo succede quando non si sa calibrare il grado di eleganza dei capi di abbigliamento. Il dress code esiste a tutti i livelli e il più delle volte non è scritto, ma è implicito la situazione, l'ambientazione sociale e conoscerlo come rispettarlo farà una grande differenza. Pensate solo a questo. Se dovete partecipare ad un funerale non vi arriverà nessun biglietto di invito con il dress code richiesto. Eppure si sa che un tipo di abbigliamento potrebbe essere anche non adeguato. Se andate al ristorante con vostra moglie o la ragazza non vi sarà nessun invito con dress code scritto. Però magari vorrete fare bella figura. Siete invitato per la prima volta ai genitori della vostra fidanzata? Non vi arriverà il biglietto con il dress code scritto. Magari vorreste essere eleganti, ma non troppo. Per non vivere un disagio sociale sarà necessario calibrare correttamente il grado di formalità di ciò che si indossa. Quindi andiamo a vedere come riconoscere il grado di formalità o eleganza in modo molto semplificato, ma efficace spero, anche di uno stesso capo di abbigliamento. Prima di tutto bisogna considerare il capo di abbigliamento e o l'accessorio nella sua totalità, e cioè da cosa e come è composto. Materiale o il tessuto, colore, la fantasia, ed è la fantasia il colore, lo spessore e la grandezza, e altri dettagli come ad esempio tasche, bottoni, cuciture, elementi applicati e modello, e valutarne il colore, la forma, la grandezza e il materiale utilizzato per i dettagli. Tutti questi componenti sono quelli che determinano il grado di formalità ed eleganza di un capo e o di un accessorio. Quindi iniziamo a capire che una giacca non è solo una giacca, ma è un insieme di vari elementi che la compongono. Ognuno di questi elementi ne determinerà il grado di eleganza. Questo vale per tutti i capi e gli altri accessori. Per cui ad esempio una giacca nera non è elegante di per sé solo perché è nera. Il colore è importante in questa classificazione, ma come abbiamo visto vi saranno molti altri elementi da considerare. In generale, più un capo è liscio, senza dettagli visibili e di colore scuro, più elegante e formale sarà. Una nota però, nella classificazione dei colori, quindi abbiamo detto che i colori scuri sono i più eleganti e formali, le camicie funzionano al contrario, cioè più è chiara, più la camicia sarà elegante. Difatti la camicia più elegante di tutti è quella bianca. Iniziamo quindi con il tessuto che abbiamo visto, che è una delle cose principali, cioè bisogna valutare con che materiale o tessuto il nostro capo è composto. Il tessuto di lana è più elegante del cotone, dico tessuto di lana perché la maglia che è di lana è meno elegante del tessuto di lana. Sono due cose diverse, cioè la maglia di lana è come ad esempio un maglione. Il tessuto di lana può essere un fresco di lana, una lana pettinata, una vigogna, ecco, che servono non per fare maglioni ma per fare giacche e abiti. Abbiamo detto quindi che il tessuto di lana è più elegante del cotone, è più formale del cotone, il cotone ovviamente è più formale del sintetico. I più formali di tutti come tessuti sono le sete, i broccati e altri tessuti preziosi, però si trovano più raramente nell'abbigliamento maschile, ad eccezione però di qualche accessorio come pochette e cravate. Anche il principio della texture, cioè della superficie, se la superficie è liscia o granulosa, irregolare, determina il grado di formalità e eleganza del tessuto. Quindi più è liscia e fine il tessuto del nostro capo, più elegante sarà, più è regolare e ruvido, sarà più sportivo, più casual. Poi abbiamo detto che dobbiamo valutare le fantasie, quindi abbiamo detto un tessuto di lana liscio, in più senza motivi o fantasia, sarà più elegante di uno che è uguale, identico, ma che riporta dei motivi anche se piccoli. Anche il colore ovviamente ha la sua parte, quindi lo scuro sarà più elegante, il chiaro sarà meno elegante. Facciamo un esempio visuale. Questi sono dei tessuti da cerimonia, di abiti per cerimonia. Vediamo quello più elegante formale, che è il primo, che è quello più scuro, più liscio, più fine, perché come vedete il secondo già è una tonalità leggermente più chiara. Ed il terzo, sebbene sia scuro come il primo, riporta dei motivi. Qua siamo ai gradi eccelsi della formalità, ecco, quando si tratta di essere invitati ad un ricevimento ad altissimo livello, già sebbene il terzo tessuto sia estremamente elegante, a livelli di altissima formalità risulterebbe inappropriato. Ora invece vediamo tre tessuti classici, normali, da abito, da città. Il primo sarà più formale del secondo, perché è tanto leggermente più scuro, poi il tessuto è completamente liscio e fine. Il secondo presenta, vedete, dei micro disegni in chiaro scuro, e sebbene il colore sia scuro, è sempre meno formale, meno elegante, di quello che abbiamo visto prima, del primo a sinistra. A sua volta, il terzo è il meno formale di tutti e anche del secondo, sebbene sia lo stesso identico tessuto al secondo, cambia solamente il colore. Il colore è più chiaro. Ok, quindi ovviamente dipende dal tipo di situazione in cui vi trovate per scegliere l'uno o l'altro tessuto. Va bene? Poi, vediamo adesso il terzo tessuto, abbiamo detto che era il meno formale, no? Dei primi due visti in precedenza. Ora lo poniamo a confronto con un tessuto più scuro, con un disegno a lisca di pesce, in chiaro scuro, quindi non molto evidente. Tra i due, quale sarà il più formale, il più elegante? Il primo, sebbene sia più chiaro, semplicemente perché il secondo, che è un tweed, è molto più peloso in superficie, è molto più ruvido, è molto più rustico, quindi non è da utilizzare, diciamo, una giacca in tweed scura, sebbene bellissima, non è una giacca elegante, è una giacca sportiva che può comunque innalzare il livello del vostro casual, per quello che dico che conoscere queste differenze fa molta differenza per poter vestire calibrati e bene. Per quanto riguarda le giacche, come capo in sé, oltre al tessuto, ci saranno altre classificazioni da fare, quelle strutturate, quindi con teline interne, foderate, con una certa struttura, sono più eleganti e formali di quelle destrutturate e quindi, quelle destrutturate e sfoderate, sono normalmente giacche casual. I reverse a lancia sono più eleganti e formali e impegnativi di quelli più normali, adenti, che si vedono in quasi tutti gli abiti, anche business, ma se l'occasione è molto, molto formale, necessiterà nell'abito avere i reverse a lancia. Bisogna considerare nelle giacche anche il design, cioè il modello più sobrio è e più formale sarà. Un modello invece ricco di dettagli sforcerà poi nel casual, quindi se la giacca ha tasche applicate, cuciture spesso in contrasto, ma non necessariamente tutto insieme, basta anche una cosa alla volta, tasche applicate, cioè più di questi dettagli si aggiungono e più casual diventa. Quindi tasche applicate, cuciture spesso in contrasto, martingalla, toppe, soffietti, ognuno di questi dettagli in più contribuisce a rendere la giacca sempre meno formale ed elegante. Facciamo un esempio con le tre giacche tipiche, cioè la giacca da abito, il blazer e la giacca sportiva. Ok? La giacca da abito, la prima sulla sinistra, la vediamo come ha un modello liscio, lineare. Vedete le tasche? Le tasche hanno solo la patteletta che copre un filo, cioè una fessura, perché la tasca è nascosta poi all'interno, perché anche la tasca, cioè anche la tasca invisibile rende la giacca maggiormente elegante, cioè tutto quello che è molto delicato, molto fine, molto lineare. Il blazer, che è meno elegante di una giacca da abito, ha invece, anche perché è proprio una giacca sportiva, nasce nello sport, ha una, ha, riporta tasche, tasconi, tasche applicate, anche il taschino è applicato, i bottoni sono in metallo, normalmente, nei classici blazer blu, ok? E il del tessuto è liscio, ok? Oggigiorno, diciamo, non c'è più tanta questa differenza, si chiamano blazer tutte quelle giacche in tessuto piuttosto liscio, quindi non ruvido, anche con bottoni non in metallo, vengono, diciamo, che non fanno parte di un abito, vengono chiamate blazer. La giacca sportiva, invece, è la classica giacca, come queste, tipo in tweed, in donegal, eccetera, eccetera, che sono quelle, come abbiamo visto prima, in tessuti, che formano una visibile texture, perché già all'occhio si vede che c'è un disegno, che si forma un disegno che può essere più o meno evidente, e il tessuto è molto più pesante, più rustico, ok? Quindi, già qui, tre giacche, tre formalità diverse. La prima è da abito e quindi poi può variare il suo grado di formalità a secondo del tessuto, del motivo, se chiaro, scuro, eccetera, per tutte le cose che abbiamo visto prima riguardanti il tessuto, possiamo calibrare il grado di formalità del nostro abito, che dipende dalla situazione, ripeto, perché potrei risultare, potrai risultare elegantissimo anche con questo gessato, non è che questo gessato non sia elegante, lo è, dipende dalla situazione, perché se è una situazione molto formale, non andrà bene, se è una situazione classica di business a livelli normali, sarà perfetto, ok? Il blazer, di nuovo, una giacca elegante, che si può mettere anche su un paio di blue jeans, che inizia ad elevare anche lo stile casual, non necessariamente deve avere i bottoni di metallo, mentre la giacca sport, è la classica giacca molto sportiva, che può innalzare di nuovo un livello casual, perfetta, non lo so, su un paio di pantaloni altrettanto rustici, come possono essere dei pantaloni di velluto a coste, ok? Per adesso mi fermo qui, ma la lezione non è finita, dobbiamo ancora vedere i gradi di formalità, di due capi molto importanti, che sono camice e scarpe, oltre che pantaloni, calze, eccetera. La lezione continua al prossimo video, voglio che tu abbia chiaro questo concetto, quindi ti invito a lasciarmi un commento, anche se hai dubbi e domande da fare sull'argomento. Come al solito, se pensi che questo video possa essere utile a qualche tuo amico, puoi condividerlo su Facebook o su Twitter, e mi raccomando, non perderti la prossima lezione, perché veramente vedremo delle cose molto interessanti. Per adesso ti saluto, ti ringrazio, ciao, a presto, da Simonetta.